buongiorno a tutti ancora dalla lessinia c'eravamo lasciati che dovevamo fare la traslessinia st'inverno ed eccoci qua tornati per farla vediamo come è messa la strada dopo le piogge disastrose di questa primavera è un pezzo che non ci si sente ed eccoci qua finalmente a fare questa bella strada sui monti lessini comunque come potete vedere uno sterrato molto facile è una roccia battuta pietra battuta che attraversa dal passo del branchetto passo fittanze tutta la lessinia occidentale io andrò al solito mio passo da impedito ecco ora il monte baldo questa strada attraversa tutte le maghe non sono ancora le 7 di mattina oggi è il 2 giugno questa è la repubblica c'è anche il Mugello chissà quanti di voi ci sono smertiamo la moto è una meraviglia la strada qua è spettacolare le vacche sono al pascolo sfondiamo un po i cerchi salve signora mucca tutto bene tutto ok dicevo non ho avuto grande occasione di usare la moto questa primavera perché come avete visto ha praticamente piovuto sempre e a me usare la moto con l'acqua non è che entusiasmi molto dove vado? vado su di qua dai e giustamente come programma estate 2024 abbiamo furbamente optato per rullo di tamburi capo nerd non prenderemo una goccia d'acqua sicuramente proprio vabbè dai oh comunque è la metà del campione 6.50 di mattina un po di sterrato ma si tanto allora di qua si va su la pudestaria ma non ci vado c'è la fottina io ho proprio la passione per le strade vuote desarte della mattina senza rotture di balle splash allora che è capace di fare fuori strada indurre tutto e starà ridendo ma oh la mia velocità questa acqua vacca adesso facciamo una fotina con qualche vacca buongiorno signore è giusto per fittanza di qua buon appetito salve pace e beatitudine come sempre però 2 giugno vacca nevicata là di là di là di là di là e beh sono di là cosa mi sa che sono i monti bresciani di là che sul ballo di qua di là c'è tutto c'è che bel cesso un bel cesso allora la strada non ho messo malissimo pensavo peggio ma essendo tutta già roccia sotto ma che si scava più di tanto quindi potete venire tranquilli ciao amici ciao vecchi buca buca ciao vecchi ma bella smardata ma guardate qua che meraviglia il verde la strada bianca e nessun altro questa è una strada aperta a tutti eh cioè c'è gente che viene a mangiare nelle malga c'è gente che viene a camminare c'è gente che fa mountain bike c'è gente in moto buca buca la mia allergia la mia nuova compagna di vita fra non essere gelosa tornerete a vedere anche mia moglie nel video eh non è fuggita con un ducatista ci va tranquilli ah la frescura a quest'ora con super tenere forse era più no anzi sicuramente con super tenere era più facile fare sterrato per me con questa davanti bu la sento un po' leggera leggera un po' tanto leggera c'è ma che bei posti dai e voi programmi estate 2024 buca bu 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 non so cos'è un facchetto? troversino coccolino oh 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 ho i primi escursionisti a piedi vuoi sì che siete sportivi mica me mica me anche perchè col fiato che ho adesso con sta eh 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 con sta allergia o quello che è farei tre metri dopo stramazzerei al suolo eh alleee uh alle allora coi riser che ho della Wunderlich quelli inclinati della Wunderlich 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 devo dire che la guida in piedi è comoda arrivo bene con le braccia anche se non le ho molto lunghe olè eh sì tra poco ci sarà una trincea della prima guerra mondiale la farò vedere eccola al montebaldo sempre presente cambia il colore della terra in sto pezzo diventa rosso tac tac ghiaia uh 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 allora qua la prendo sì la prendo larga perchè c'è il pietrone orca c***a eh ci sono delle volte che proprio mi sembra di andare giù forse perchè vado troppo piano allora sento di più l'esperità non lo so ditemi voi consigli per essere meno insicuro sullo sterrato sulle strade bianche oh signora buongiorno tutto bene a casa buon appetito eccola là le trincee adesso ci andiamo vale rose rosse per te qua ghiaione non è ghiaia 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 stallo fa che queste sono trincee nella prima guerra mondiale cosa di storia porca miseria porca miseria adesso è fatta la storia d'italia dopo la rovinosa sconfitta di caporetto del 1917 la lessigna tornò a essere una zona militarmente strategica storia d'italia qua storia d'italia che spettacolo è la natura la natura incontaminata quasi noi dobbiamo andare là guardate che meraviglia come vedete sono un atleta fate finito il ridotto di malgapi d'occhio il nido di mitragliatrice prima e dopo il recupero porca miseria siamo infangate teresa direi che siamo belle infangate teresina teresella comincia a far caldino adesso sarà per il gesto atletico che ho fatto vero trekking estremo 7 20 della mattina 2 giugno 9 gradi top signore buongiorno alve ciao vecchie ciao vecchie anche bella pissata brava occio qua occio troche panino col salame l'ho giocata nascondino voi no aver paura vacca di aul la parte di sterrato è terminata andiamo verso passo fittanze ah bello lo sterrato è bello tutto all'asfalto è un'altra roba come guida ecco quando è periodo di vacca al pascolo state attenti ciao bella state attenti che è capace che vi trovate dietro la curva una mucca due mucche tre mucche altra cosa a cui stare attenti queste non so se si è visto la telecamera le cacche di mucca in curva penso che sia più scivolose del ghiaccio quindi occio occio piano piano grazie signora qua le vacche vengono a bere le vacche qua le mucche vengono a beverarsi guidate sempre con prudenza queste strade qua perché oltre alle vacche se beccate una macchina a strada stretta eccoci al par di passo fittanze eccole signora signorine cosa fate qua belle belle ma che piccole sette e mezza di mattina sega di ala qua aperitivi è qua che si entra nel bosco si comincia a sentire fresco siete arrivati fin qua vi ringrazio mettete mi piace condividete iscrivetevi al canale buona strada a tutti e ci si vede nel prossimo video e un saluto dalla val d'adige ciao becchi ok